Se cercavate l'ufficialità, signori, eccola qua. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli non stanno più insieme. Allora, le ultime settimane sono state abbastanza movimentate per la coppia formatasi nella casa del grande fratello Vip. Erano stati tra l'altro protagonisti già così di parecchi tir e molla, insomma, non è che rimaniamo così molto esterefatti della notizia. Ma non soltanto questo. C'erano state diverse discussioni anche abbastanza particolari che avevano spinto anche lo psicologo del programma ad intervenire. Certo, non è che cambia molto, visto che lo stesso Daniele fu espulso per una serie di comportamenti decisamente sopra le righe. Dopo una serie di crisi e riappacificazioni, comunque, i due si sono ritrovati fuori dalla casa e sembrava che la storia procedesse bene. Poi, però, è arrivata una nuova pesante crisi seguita da diversi botta e risposta sui social, io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno stampino e l'amore non è questo, aveva scritto il modello. Oriana aveva ribattuto su tweet, sono stufa di essere dipinta come strada che non prova sentimenti, è tutto il contrario, punto. Io lo amo, per questo sono in lacrime. Poi i due erano tornati insieme. Ma adesso? Sembrava essere tornto il sereno tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La relazione tra i due è stata del resto sempre parecchio vivace, caratterizzata da crisi e nuovi ritorni di fiamma. Recentemente, però, i due ex-geffini sembravano aver trovato un certo equilibrio. Daniele e Oriana hanno festeggiato la ritrovata serenità con una bella vacanza in Sardegna. Ma è durata poco. Proprio nella mattinata di oggi, lunedì 3 luglio, Daniele il modello e imprenditore digitale ha fatto un annuncio dal suo profilo Twitter. Valigie nuove per il mio compleanno. Ha scritto Daniele Dal Moro, allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Subito dopo l'influencer ha scritto un altro messaggio in cui spiega che la rottura stavolta è definitiva. Daniele Dal Moro ha poi twittato, quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno, anche per non far sapere i cazzi miei. Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me Oriana è finita senza margine di ritorno. Non si sa cosa sia esattamente successo, ma i messaggi hanno provocato una valanga di commenti, litigare per costruire e non per distruggere. Ricorda! Il margine di recuperare ci sta sempre. Sempre. Metti da parte la rabbia e l'orgoglio. Lei ti ama. E i tuoi sentimenti sono molto forti. Si migliora insieme. Vuoi farlo? Sono in tanti a pensarla così, gli oriele non hanno ancora perso la speranza. Ma certo il messaggio di Daniele è piuttosto netto. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like. E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.